Impiccata perché colpevole di essersi innamorata di un paria o di un dalit, come vengono chiamati in India, i più umili, i fuori casta. Finisce così la vita di Gomati, 17 anni, che potrebbe essere una di queste donne che balla nell'India dei colori e della poesia. Ha un grande amore Gomati per Murugan, poco più grande di lei, conosciuto nella fabbrica di un villaggio del grande stato del Tamil Nadu. Quando la storia d'amore tra i due ragazzi inizia, il padre di Gomati, Murugan, cerca di dissuadere la figlia, vuole organizzarle un matrimonio con un uomo suo pari. Ma per tutta risposta lei fugge con il suo amato Murugan. Quando la famiglia rintraccia la giovane, le chiede di tornare a casa, le promette persino che il suo sogno d'amore sarà esaudito. Lei, a fiducia, torna a casa, ma è un tranello. I due fratelli l'aspettano per picchiarla, farle bere acido muriatico e impiccarla con una corda. Sperano di far credere alla polizia che Gomati si sia suicidata, ma i vicini hanno allertato nel frattempo la polizia. Non resta ai due fratelli che confessare, sono loro che hanno ucciso.